ecco la traduzione del testo in italiano tanta confezione poche emozioni per maria il film su callas titolo dell'articolo uno sguardo al nuovo film sulla leggendaria maria callas il recentemente pubblicato film maria ha attirato l'attenzione di molti critici cinematografici e appassionati del palcoscenico operistico si concentra sulla vita straordinaria e sulle impressionanti altezze profondità della carriera della famosa soprano maria callas tuttavia il film è oggetto di dibattito sia per la sua realizzazione visiva che per la mancanza di profondità emotiva i critici fanno notare che la rappresentazione cinematografica sebbene sia esteticamente gradevole lascia per lo più a desiderare per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni percepiti il rapporto avvincente tra callas e il famoso industriale aristotele onassis viene mostrato come meno profondo di quanto ci si aspetterebbe la discussione ricorda opere precedenti che pur senza abilità visiva brillavano per il loro profondo contenuto emotivo la continuazione della critica evidenziato come la regista e gli autori non approfondiscano a sufficienza i momenti duri e spesso tragici della vita dell'artista si riporta che il pubblico ha spesso la sensazione di seguire una semplice biografia piuttosto che immergersi nel mondo interiore della protagonista questi difetti sono stati evidenziati da diversi critici cinematografici e influenzano fortemente la ricezione generale del film un altro punto di discussione è il cast e la performance attoriale angelina jolie è ammirata nel ruolo principale di maria callas anche se alcuni critici osservano che la sua interpretazione non rende giustizia al carattere complesso della diva dell'opera ecco la traduzione del testo in italiano mentre jolie è conosciuta per le sue capacità recitative si critica il fatto che in questo ruolo non riesca a trasmettere la necessaria profondità e varietà di emozioni che ci si aspetterebbe da una personalità così impressionante inoltre la rappresentazione di callas è criticata per essere un po idealizzata il che potrebbe attenuare le realtà storiche ed emotive della sua storia di vita i conflitti professionali nelle sue relazioni e i problemi all'interno della sua carriera avrebbero dovuto essere affrontati in misura maggiore tenendo presente che callas è ancora considerata una delle artiste più significative del questo secolo si sarebbe potuto mostrare maggiore rispetto per la sua complessità e le conquiste di questa donna in un'epoca in cui il film dovrebbe essere non solo intrattenimento ma anche educazione e avvicinamento a verità emozionali molti spettatori e critici si chiedono se maria possa soddisfare questa aspettativa le aspettative per un'analisi SWOT del film sono quindi elevate mentre gli aspetti visivi sono valutati positivamente la profondità emotiva rimane insoddisfacente per molti zusammenfassend lässt sich sagen dass maria ein eindrucksvolles visuelles erlebnis bietet aber hinter den erwartungen zurückbleibt wenn es um die emotionale tiefe geht ob dieser film im nürnberger oder berliner kinos als meisterwerk erinnert werden wird bleibt abzuwarten wichtig dabei ist dass eine identifikation mit der hauptfigur für viele nicht gegeben ist ein umstand der in der filmwelt nicht selten als problematisch empfunden wird in sintesi si può dire che maria offre un'esperienza visiva impressionante ma rimane al di sotto delle aspettative per quanto riguarda la profondità emotiva resta da vedere se questo film verrà ricordato come un capolavoro nelle sale cinematografiche di norimberga o berlino è importante sottolineare che per molti non c'è identificazione con il personaggio principale una circostanza che nel mondo del cinema viene spesso ritenuta problematica autore anita fache giovedì 29 agosto sto 2024 4 4